Emozionati, Claudia Lenti e Alessio Pili, due notissimi volti noti del trono over di uomini e donne, sono stati ospiti di Silvia Toffanini e hanno parlato del loro amore nato nel salotto pomeridiano di Canal. Un inizio travagliato fatto di incomprensioni, litigate e numerosi allontanamenti, ma il loro amore è andato oltre a tutto e adesso sono felici e pensano. Maria De Filippi ci capiva e sapeva come parlarci, io le devo tutto. Anche perché spesso se io parlavo lui non mi capiva e se invece parlava lei lui la comprendiva, ha sottolineato Claudia ricordando i momenti difficili attraversati durante la conoscenza da quando siamo usciti passiamo dei giorni bellissimi, i lati negativi li abbiamo già scoperti tutti quindi adesso ci concentriamo sullo scoprire quelli belli. hanno spiegato i due coni da quando siamo usciti nel vostro futuro cosa vedete? Ha poi chiesto Toffanini, con lei sento che questa possibilità c'è. Che dire Silvia, penso lo se continuiamo così le possibilità ci sono, ha risposto lenti emozionali.